Buon pomeriggio Buon pomeriggio a te. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore? Nelle prossime ore l'ondata di freddo continuerà a colpire la nostra regione. Necesseremo ancora delle nevicate, anche se, così come è accaduto in mattinata, saranno deboli o al più moderate. Non ci saranno grosse nevicate, l'evento infatti è sicuramente inferiore, non è paragonabile a, per esempio, la nevicata della Befana dell'anno scorso. Quindi avremo ancora delle nevicate, ma i disagi maggiori, i problemi maggiori, vi darà soprattutto il gran freddo, il cielo, perché avremo temperature negative nell'entroterra, ma vicino allo zero anche sulle coste, sulle piamone, in particolare della Puglia centrale e della Puglia settentrionale. Quindi ghiaccio sulle strade, soprattutto sulle zone che sono state interessate dalle nevicate in queste ore, e il gran freddo anche nella giornata di domani fino a mercoledì mattina. Poi le cose cambieranno totalmente perché da mercoledì pomeriggio, soprattutto da giovedì, passeremo dall'inverno alla piena primavera, a causa di un intenso richiamo mite che ci riporterà appunto nella nuova stagione con tanto di scirocco e forse anche qualche pioggia. Quali sono le città del sud maggiormente colpite quindi dalla neve? Al momento al sud diciamo che diverse città hanno visto la dama bianca, ci sono state fioccate a Bari, ma anche a Foggia, anche a Napoli, a Caserta, però la neve non ha creato di fatto particolari problemi al sud, perché i fenomeni non sono stati mai particolarmente intensi, soprattutto non sono stati particolarmente duraturi. Ecco, si è trattato di fenomeni magari anche piuttosto veloci, anche in questione ci sono state, continuano a esserci medicate, ma non ci risurra che ci siano grossi accumuli in particolare città. Per quanto riguarda la Puglia, la zona più colpita probabilmente è quella compresa tra il nord-Barese, la Batte, la Sede del Monte, Andrea, Corato, però appunto accumuli che non vanno oltre... La neve non si è posata in grande quantità? No, no, assolutamente no, non ci sono particolari... Ovviamente a parte l'Appennino, però parliamo già di colline, appunto, montagne, ma in pianura no, non ci sono particolari accumuli. Quindi domenico tutto questo durerà fino a mercoledì? Sì, mercoledì risveglio gelido, ancora poi dal pomeriggio sera arriva lo Scirocco e saluteremo forse l'inverno, almeno per ora. Molto bene, grazie domenico per essere stato con noi, grazie per tutti questi suggerimenti, insomma queste informazioni molto importanti, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. A te. Marco, Chico, dove siete? Ci siamo.